Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Zombicide Greenord, che è l'ultimo gioco uscito su Asmod Italia della serie di Zombicide ambientato in un medioevo fantasy e questa versione del gioco ho preciso subito che è uno stand alone, quindi non è come Wolfburg o un'espansione per Black Plug. Ovviamente si possono fondere tutti i prodotti al solito sempre per giocare l'insieme di Zombicide, comunque è un gioco a parte, quindi comprando questa scatola ci potrete giocare da subito anche se non siete in possesso di Black Plug. Devo dire che, vedrete nel corso della recensione, che il gioco è molto interessante, anzi per ora di tutti quelli ambientati nel medioevo fantasy è in assoluto il mio preferito, perché in un fantasy se non ammazzi un po' d'orchi un ti diverti. E tra l'altro ringrazio davvero di cuore ragazzi ancora una volta Asmod Italia per averci fornito una copia per la recensione, una scatola per la recensione, grazie ragazzi davvero del supporto che ci state dando immenso, veramente grazie. Comunque partiamo con l'unboxing e poi dopo vi do una valutazione finale. Allora, cominciamo con l'unboxing della scatola di Greenord, che ricordo essere il primo gioco stand-alone nell'ammettazione di Black Plug medievale di Zombicide. Apriamo la scatola. Allora, all'interno abbiamo il manualetto delle regole, che per chi di voi viene da Zombicide, o viene comunque soprattutto da Black Plug, la parte medievale fantasy, ci sono poche regole nuove. C'è il Trabucco con le sue regole. Gli zombie degli orchi che qui sono differenti, quindi gli orchi normali, i riambulanti fanno sempre un'azione ma fanno due danni invece che uno, perché sono più forti. La scatola delle miniature, che come sempre sono della massima qualità e sono bellissime, ma veramente bellissime a dire poco. Le schede dei personaggi, che al solito nella scatola ci sono i personaggi nuovi, sei nuovi personaggi, più l'abominio, orco. Il necromante orco, che finalmente hanno capito che il necromante non deve soltanto scappare, ma deve anche attaccare, infatti ora attaccherà occhio. Gli orchi diambulanti, gli orchi runner, i dadi, ovviamente le carte, con i nuovi equipaggiamenti magici, e il Trabucco, che è la vera figata del gioco. Praticamente questo Trabucco qui, questo Trabucco ha delle regole particolari che vi consentano di praticamente tirare su tutti i tile del campo a una distanza di due tile maggiori, sotto no, perché un Trabucco non potrebbe mai tirare in corpo a corpo, e col Trabucco potrete facilmente distruggere le orde di orchi che arriveranno. Ovviamente tutti quanti i segnalini, che se non li volete usare potete prendere direttamente quelli degli altri zombie side, sempre nel medioevo, quindi entrate, obiettivi, barricate, zombie, questo qui è la bille di drago, segnalini suono, token suono, e il token exit di uscita. E poi i nuovi tile di gioco, dove ci saranno delle siepi, le siepi quelle verde, direttamente sul tile, che hanno un regolamento particolare, ovvero si possono tranquillamente passare, uno si può passare attraverso, però non ha linea di visuale, quindi se un personaggio si trova qui, e uno zombie si trova da questa parte, non lo potrà assolutamente bersagliare, perché c'è la siepe nel mezzo, e in più è bellino che hanno messo dei tile, con dei settori della mappa allagati, che per muoversi all'interno di questi settori, dovrete sprecare un movimento in più. L'abominio degli orchi, che ragazzi, la cosa bella, uno dice a volte, e sono il primo, e sono insieme a voi, però il kickstarter costa 100, 120 euro, e costa tanto come prezzo, no? Un prezzo abbastanza alto, sì ragazzi, ma guardate, a parte sono tante le miniature dentro, ma guardate lo spettacolo, cioè ragazzi, questa roba qui la fa la GV dopo 30 anni, sono bellissime, cazzo. Lo sciamano degli orchi, un orco deambulante, quindi il classico zombie, un orco runner, di quelli che fanno due azioni a turno, l'orco grassone, quello che ha un solo movimento, ma ha la bellezza di due punti ferita, e poi i nuovi eroi, che finalmente, riandando un po' in revocazione Conan il Barbaro, o Schwarzenegger, o anche Hero Quest, abbiamo il Barbaro, che è uno spettacolo assurdo, e l'elfa oscura, con abilità di ladra e sotterfugio. E queste sono alcune delle miniature, presenti nel gioco, e ragazzi, è veramente uno spettacolo, questo era l'unboxing, di Zombicide Greenhold, che ricordo, essere un gioco che si può fondere, voi lo potete giocare tranquillamente, con Black Plug, con Wolfburg, con tutti i giochi, della stessa linea di Zombicide, che vi pare a voi, però questo è un gioco stand alone, quindi non è un'espansione, come Wolfburg, per Black Plug, questo lo potete giocare, tranquillamente da soli. Zombicide Greenhold, è uguale, identico, spiccicato, alla sua versione precedente, ovvero Black Plug, con qualche regola, opzionale ed aggiuntiva, comunque per la maggior parte, vi sembrerà di giocare a Black Plug, quindi chi ha comprato il prodotto precedente, ci troverà ben poche novità, ma vi elenco quali sono. Prima novità, presente nel gioco, è la barricata, come abbiamo visto anche nella componente, nel futuro le barricate, se vi ricordate, quella a metà dei tempi nostri, il Zombicide normale, le barricate che fungono da blocco per gli zombie. Quindi nel caso, regola di visuale, uno zombie ha in visuale un sopravvissuto, un eroe, lo zombie si muoverà sempre in direzione dell'eroe. Però, se lo zombie ha davanti a sé una barricata e una maniera per aggirare la barricata, lo zombie cercherà sempre di fare una mossa da giramento per arrivare in corpo a corpo a un giocatore. fate caso che invece questa sia l'unica strada e non possa andare da altre parti che non seguire questa, perché vi ricordo, lui deve seguire sempre la più breve per arrivare al giocatore, quindi non è che potrebbe tornare indietro e girare dall'edificio, no, diventerebbe troppo macchinoso. Quindi se lui non può fare una cosa del genere, ma deve per forza passare di qui, in questo suo turno finisce l'azione nella stessa casella della barricata. E nel prossimo turno, come prima azione, distruggerà la barricata per procedere verso l'eroe. Nuova regola, direttamente senza nessuna cosa da ammettere, ma direttamente sui tile del tabellone, le siepi. Le siepi sono un blocco di vista, puramente di vista, in visuale per i giocatori. E questa cosa come funziona? Funziona che l'orco non può vedere il sopravvissuto e il sopravvissuto non può vedere l'orco, però l'orco verrà sempre mosso con le sue regole di non morto o di deambulante secondo la quantità di suono. Quindi il giocatore, se vuole tirare da questa casella, questa non può, perché ha una siepe che le pare alla vista. Se invece vuole andare in corpo a corpo allo zombie per ucciderlo, deve passare la siepe sprecando un movimento aggiuntivo, perché passare la siepe chiede un movimento in più, ovviamente dovrà passare in mezzo ai rovepruni, un movimento in più, arriva in corpo a corpo a deambulante, quindi ha già sprecato due azioni per muoversi soltanto, e quando passa una siepe deve sempre tirare un dado da 6 e vedere il risultato. Se esce un risultato di 1 su 6, in questa casella qui non ci sarà un orco ma due, perché lo danno per il fatto, come dire, passi attraverso una siepe e non sai cosa ti aspetta di là, ci potrebbe essere un nemico nagguato. Fate caso che il giocatore fosse passato e non ci fossero stati orchi, tirerà il dado e con un risultato di 1 apparirà automaticamente un orco in corpo a corpo. Stessa regola, però, visto che Zombicide è un gioco cooperativo, se dall'altra parte della siepe c'è un altro eroe, quindi di un altro membro del party, che ha visuale sull'orco, il personaggio che si muove da qui a qui sprecherà sempre due azioni, però non avrà più il problema di vista e quindi non dovrà più, sì, sempre non può tirare da un cespuglio all'altro, però non dovrà più tirare il dado per vedere cosa c'è dall'altra parte, per vedere se ci sono inconvenienti o mostri vaganti che sbucano da nulla, perché ci sarà già l'altro giocatore che lo avverte sulla posizione e sul rischio che andrà a incontrare. Quindi questo dado, la mossa rimane uguale, ma il dado non si tira più. Nuova regola figata è il trabucco. Il trabucco non sarà presente in tutte le mappe del gioco, però nella maggior parte sì, perché ovviamente, a parte essere un bel pezzo di plastica, è anche molto utile alla fine del gioco, il trabucco serve per tirare sulle orde di orchi che si avvicineranno e non ha una gittata massima. Quindi il trabucco ha l'unica regola che può tirare da due quadranti in poi, da due quadranti in più, ovviamente non si può contare in diagonale la distanza, va sempre contata una, due, tre, quattro, come per le armi da tiro, però non può tirare mai a meno di due tile, di due caselle di distanza, perché a meno non potrebbe, un trabucco va per le lunghe gittate, non per le corte. Comunque può tirare ovunque sul campo, a due caselle o più, o addirittura anche dentro gli edifici, perché sfonderebbe il tetto, quindi può tirare nel caso gli orchi siano per strada, li può tirare, nel caso siano dentro l'edificio conta uno, due, tre e può tirarli anche all'interno dell'edificio. Il trabucco ha tre funzioni, una, si possono tirare sei dadi, quindi sei dadi da sei, e il trabucco colpisce sempre col quattro più e ogni dado che fa quattro più è una ferita, quindi sei dadi da una ferita ciascuno, oppure si possono tirare tre dadi da due ferite ciascuno, oppure tirare un solo dado, sempre col quattro più, che se colpisce invece farà direttamente tre ferite. Come per le armi da tiro, questo è a scelta del giocatore, come per le armi da tiro si applicano le stesse identiche regole, quindi prima si vanno a bersagliare i diambulanti normali, in questo caso facciamo conto che qui dentro ci sia di tutto, prima si vanno a bersagliare i diambulanti normali, poi si vanno a bersagliare il grassone e l'abominio e per terzo il corridore, quindi le regole del tiro sono uguali, non puoi sceglierti il bersaglio. E per usare il trabucco il giocatore che è nella stessa deve essere nella stessa casella del trabucco deve sprecare tutte e tre le azioni, le sue azioni, per fare un tiro, oppure sprecare tutte e tre le sue azioni per spostare il trabucco di uno. Spostare il trabucco di uno serve per avere anche visuale, perché se gli orchi fossero qui a distanza quindi di due minima e il trabucco fosse qui, adesso il giocatore avrebbe visuale o nel caso ci sia un altro personaggio che comunque contribuisce alla visuale sul bersaglio, sugli orchi, sul tile da bersagliare, a questo punto lui colpirà non più col 4 o più ma con il 3 o più. Non succederà mai perché qual è il giocatore matto che lo farebbe, comunque se ci sono dei nuovi settori allagati sulla mappa che lo vedete ci hanno disegnato l'acqua che ora vi spiego come funzionano, se il trabucco, la macchina d'assedio viene mossa in un settore allagato automaticamente è distrutta. Come abbiamo visto sul tile per le siepi ci sono anche i settori allagati, i settori allagati che richiedono di sprecare due azioni per il movimento perché il movimento alla fin fine nell'acqua che ti arriva fino alla vita è molto più lento e vedete sono contraddistinti da una sponda bianca e una sponda bianca. Questo vuol dire dove la parte è la delimitazione della parte allagata per farti capire dove sono le varie uscite. Un personaggio che entra in un settore allagato usa una mossa soltanto perché uscire o entrare da un settore allagato ti costa un'azione però tutto il resto delle mosse quindi da un settore allagato all'altro costeranno due azioni per un solo movimento. Come detto muoversi da una zona allagata a una non allagata invece costa soltanto un'azione in più tutte le zone delimitate da un'ombra nera a contatto con la zona dell'acqua quindi questa zona qui e questa zona qui fungono da cornicioni quindi se il personaggio è qui potrà direttamente fare un salto giù dal cornicione sprecando due azioni per il salto e andare in un settore allagato facciamo conto che questo personaggio è qui e qui ci sono due zombie che nel prossimo turno gli arriveranno in corpo a corpo lei non sa dove scappare può fare direttamente due azioni spostarsi di qua nell'acqua e gli zombie non possono saltare il cornicione quindi dovranno trovare per forza di cose una strada alternativa la più breve possibile per andare in corpo a corpo e questa è un'azione che ti può salvare la vita. come sempre quando si girerà una carta necromante il necromante degli orchi funziona come quello di black plug normale verrà generato in questa zona e lui farà tutti i suoi movimenti per scappare e andare in una zona successiva vi ricordo che ogni volta che entra un necromante in campo dovete mettere la sua zona di generazione perché se non distrutto in tempo prima che fuga genererà altri zombie con l'unica differenza che il necromante quando arriva in corpo a corpo scappando con un altro giocatore questa volta invece farà ferite perché questa volta i necromanti picchiano in corpo a corpo perché hanno messo il trabucco e molte più armi magiche in questo gioco perché ora la situazione si va a peggiorare vi dico soltanto gli zombie sono uguali movimenti i diambulanti sempre di uno i corridori di due però c'è un piccolo problema che ora tutti gli orchi quindi i diambulanti normali e gli zombie degli altri giochi quando vi arriveranno in corpo a corpo avranno una sola azione come sempre non cambia nulla ma faranno due danni quindi gli orchi normali vi faranno due danni e vi ricordo che con tre si muore lo zombie corridore invece vi fa un danno soltanto non due però ha due azioni quindi se vi arriva in corpo a corpo a quel punto vi farà due danni l'orco necromante è un orco normale quindi anche lui vi farà due danni in corpo a corpo l'orco grassone gli dovrete fare due punti ferita come tutti i grassoni normali per ucciderlo ma lui vi farà tre ferite quindi occhio che se vi arriva in corpo a corpo è la fine e per finire l'orco abominio che vi farà tre danni in corpo a corpo dovrete fargli a lui tre danni in corpo a corpo per ucciderlo e in più non potete fare nessun tiro salvezza con armature o scudi perché lui è talmente grande che li sfonda quindi le tre ferite se vi arriva in corpo a corpo le prendete e siete morti questo non deve arrivare in corpo a corpo perché anche a full punti ferita con un colpo ammazza qualsiasi avventuriero il gioco si chiama Greenord ovviamente per dargli un titolo lorda dei pelle verde che ci stesse anche bene ma anche una ragione particolare a livello di regole allora vi ricordate che zona di generazione a fine turno dei giocatori c'è la fase di generazione delle zombie e dovete vedere il livello del giocatore che ha il livello più alto e tirare e quando genererete la carta vedere il livello che cosa consiglia quindi se è blu giallo arancione o rosso che cosa verrà sponato Greenord ha una regola particolare che se vogliamo è anche particolarmente cattiva perché tutte le carte degli zombie della generazione di zombie a parte l'attivazione extra hanno una banderina rossa che è la banderina rossa dell'orda quindi cosa vuol dire in questo caso vi faccio l'esempio dell'orco grassone facciamo caso che il personaggio col livello più alto ha livello a blu quindi noi generiamo in questa zona qui dice che cosa generiamo generiamo un grassone col blu quindi io prendo in questa zona qui metto un grassone però la regola dell'orda mi dice che devo generare un mostro identico a quello appena sponato uno soltanto fuori e metterlo infatti questa parte qui del campo usatela sempre come zona dell'orda e metterlo qua giù nel caso i grassoni fossero stati tre quello generato fuori che va messo nella riserva dell'orda è sempre uno uno soltanto non di più anche se ne venissero generati 4-5 fuori ce ne andrà sempre uno invece mettiamo caso avessi giocato un'altra carta sempre in quella zona lì e in quella zona lì fosse venuto fuori un orco deambulante io a quel punto devo prendere un orco deambulante e metterlo qui e uno uguale identico metterlo fuori nella zona dell'orda che questi sono fuori non entrano stessa regola non si applica per il necromante e per l'abominio l'abominio è sempre uno e uno solo sul campo quindi quando è entrato ormai in campo quello c'è è sempre solo uno e il necromante invece ha una carta particolare qui che dice che una volta che entra in campo il necromante nella zona fuori dovete mettere un grassone un deambulante e un corridore e quindi nel caso la zona si va a riempire ancora di più sempre attivando le zone d'attivazione in senso orario magari questa poi questa o nel caso anche dentro un edificio se qualcuno ha aperto la porta e quindi in quel momento lì bisogna generare le ondate nella zona dell'edificio per varie stanze quando viene pescata una carta arriva l'orda facciamo caso abbiamo pescato sempre per questa zona qui ok viene pescata una carta arriva l'orda tutta la riserva che era stata messa nell'orda va schierata direttamente in quella zona lì quindi se avevate 20 mostri qua fuori che aspettavano nell'orda e i giocatori sono in questa zona di gioco qua tutta l'orda verrà spostata direttamente in questo quadrante e si muoverà per andare incontro e fare la strada più breve verso il giocatore secondo me è una regola molto carina perché vedi che piano piano si sta formando quest'orda barbarica laggiù fuori e dici prima o poi entreranno speriamo che non c'entrino corpo a corpo perché farle arrivare tutti insieme e non avere il trabucco per tirargli cioè equivale veramente a perdere la missione che dire in conclusione quello che c'era da dire ve l'ho detto gli do come voto un 8 o meno gli do quel meno per il fatto soltanto che potevano mettere qualcosina in più perché si avete visto no poi nella spiegazione le regole in più ci sono fondamentalmente una è una saranno anche 5 o 6 però non si diversifica tantissimo alla fin fine dal black plug normale però tutto il contenuto della roba che unisce che aggiunge alla fin fine già è tantissimo pensate infatti io prima o poi lo farò mi prenderò un tavolo immenso e giocherò con tutte le espansioni metterò quella dei fantasmi che vi faremo vedere in futuro wolfburg con elicantro per lupi mannari black plug normale con le zombie più questo con i pelle verde immaginatevi lo spettacolo cioè peggio di hero non sai mai che mostro ti è arrivato arrivano 5 o 6 mostri differenti ed è una figata assurda aggiunge tanta roba però magari ecco le regole le potevano un pochino svecchiare però vabbè è un meno alla fin fine non fa nulla sempre intorno all'otto ci siamo ottimo come prodotto assolutamente ragazzi compratelo uno se siete fan della serie di zombie se no non avrebbe senso ma due anche se non siete fan e volete provare un prodotto di zombie e vi garbano soprattutto giochi dove dovete ammazzare trilioni di zombie ragazzi non ce n'è ve lo dico sinceramente meglio di questi giochi di zombie non ci sono e qui se come me siete amanti del fantasy e volete ammazzare l'orchi è tutto è veramente tutto ragazzi che dire ancora una volta grazie a Smo d'Italia io spero che la recensione vi sia piaciuta fatemelo sapere con un commento e alla prossima ciao belli